Ehi, vado a parlare di cosa essenziale, tu vado a fattiare la connotazione, la faccio l'altro. E' pubblicazione, no? Mario Peti, vado bene, vado bene. E' manga, dai, fracchiolo, vado bene. Qua, che non mi vedo qui? Non mi vedo qui, 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 non mi vedo qui. No, l'anno scorso, vado bene. Mi ricordo, l'anno scorso, l'anno scorso, l'anno scorso.